Si chiude, proprio nell'anno delle celebrazioni legate al settimo centenario della morte di Dante Alighieri, il percorso fotografico del fotoreporter Giampiero Corelli, Dante Esule, percorso contemporaneo, iniziato nel 2015. Sabato 22 maggio, a partire dalle 17.30, inaugurerà infatti in Darsena la mostra Il lungo viaggio, l'esilio che mi è dato o non mi tengo, un'installazione fotografica che sarà visibile sulle pareti esterne adiacenti al Darsenale. Il progetto, presentato questa mattina alla stampa, raccoglie diversi scatti realizzati da Corelli in tutta Italia nel corso delle sette edizioni di Dante Esule. L'inaugurazione della mostra sarà accompagnata da alcuni momenti musicali, con il DJ set che richiama la Divina Commedia, degli artisti Olly Spliff, Mitch B e Ada Ray, e da un intervento del gruppo di danza contemporaneo e teatro danza di Terra e di Tulle a cura di Marinella Franchi. Durante l'evento sarà inoltre proiettato il video, l'esilio che mi è dato o non mi tengo, realizzato dal filmmaker Massimo Salvucci. Il progetto si completa con il contributo al cofanetto, edito per l'occasione, del direttore artistico di Dante 2021, Domenico De Martino, presente oggi durante la conferenza stampa, insieme fra i vari ospiti, all'assessore alla cultura del comune di Ravenna, Elsa Signorino. Si conclude qui il percorso di Giampiero Corelli, fotografo, attraverso la sua idea di un Dante Esule sprofondato nella contemporaneità. Sono ormai sette anni, qui vediamo tutto il lavoro fatto insieme e quindi troviamo ancora di più il senso. Alla fine Corelli ci racconta, io credo, un dialogo ben preciso fra Dante, fra le parole di Dante e ciò che noi viviamo e finalmente ci fa sentire un po' tutti esuli, tutti consapevoli che il nostro è un viaggio verso, come per Dante, verso l'assoluto, verso l'universale o semplicemente verso il senso del nostro esistere. E in questo progetto c'è anche un riferimento a quella situazione attuale in cui stiamo vivendo, alla pandemia? Assolutamente sì e per forza, come possiamo farne a meno se non parlassimo di questo fatto assolutamente imprevedibile, assolutamente imprevisto che ha girato tutte le carte della nostra vita, più di quanto forse noi ci rendiamo conto in questo momento, non parleremo certo della contemporaneità. Corelli ha frequentato con le sue foto momenti intensi di questa esperienza negli ospedali, nei luoghi di cura, attraverso i medici, attraverso gli infermieri, tutti quelli che hanno collaborato, ma qui ancora emerge questo silenzio nel quale siamo costretti, in attesa di riprendere la parola con più forza, con più consapevolezza di prima. È molto importante questo approdo in darsena di Dante Esule. In questi anni Dante Esule ci ha abituato ad una declinazione dell'ascito dantesco nei linguaggi della contemporaneità. Non mi riferisco soltanto allo straordinario lavoro fotografico fatto da Giampiero Corelli, ma anche alla capacità che Giampiero ha avuto di indagare nel nome di Dante le grandi questioni del nostro tempo. Dante Esule è stata l'occasione per indagare problemi come quelli dei migranti, quelli dell'auto isolamento degli adolescenti e da ultimo, in quest'ultima edizione che però testimonia dell'intero percorso, c'è il tempo sospeso della pandemia. Quindi mi pare che portare questa rassegna fotografica di oltre sette anni di lavoro in darsena sia una scelta davvero lungimirante e molto appropriata. Dante parla a tutti e a tutte, Dante è nostro contemporaneo, Dante può illustrare ed illuminare luoghi diversi, anche luoghi non tradizionalmente deputati alla cultura. Per questo questo progetto di Giampiero Corelli è doppiamente apprezzabile.